buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo scopriamo insieme le creazioni in resina allora ieri avevo voglia di fare delle creazioni con il sticker e vogliamo parlare di quanto tempo è che non uso questo stampo cioè questo era presente nel primo scopriamo le creazioni sono passati tre anni e lui è ancora qui ancora intatto cavolo e l'ho usato un sacco di volte è strano questo qua quello con i cuori fatti così rosa dopo un po' si è consumato questo è ancora fantastico cioè almeno credo magari adesso tiro fuori le creazioni e sono completamente opache perché lo stampo è consumato mi sembrava ancora buono comunque scusate ragazze non sono molte ma io come al solito quando faccio le creazioni con lo sticker ci metto un sacco e dico beh ma cavolo sono tante poi in realtà vederle così non sono poi così tante ma questo poi che ok sì questo è quello che usavo ieri per rimettere giù gli sticker non me l'ho accorta che fosse ancora lì vabbè a parte questo direi che possiamo cominciare cominciamo da quello piccolo a quello grande dai partiamo da questo qui ragazzi ripartono i ricordi adesso con questo stampo e vediamo cioè non sono più abituata io a fare creazioni con lo sticker così piccine ai tempi ne facevo molte piccole adesso invece le faccio tutte più grandi quindi spero di non aver combinato disastri e partiamo allora oh sì mi mancava questo stampo allora insomma sì allora ho usato uno di quegli sticker d'oro che a me piacciono tantissimo e stranamente non ci ho messo lo sfondo bianco ma non preoccupatevi una con lo sfondo bianco con uno sticker d'oro l'ho fatta non resisto sta troppo bene e ci ho messo questo sfondo che è bellissimo come vedete è verde acqua perlato anche abbastanza perlato l'unica cosa è che si è un po' spostato lo sticker e non me ne ero accorta perché come vedete non è esattamente al centro e cavolo però dai non è male e oh mio dio il verde acqua perlato ragazzi devo usarlo molto più spesso devo ricordarmelo perché è bellissimo e poi ci sono tipo due bollicine qui nei lati non so come hanno fatto a venirci delle bolle lì sotto così ma vabbè comunque dai a parte lo sticker un po' storto molto carina adoro questi sticker che erano le creazioni così eleganti tipo poi vediamo cosa che era questa ah ok ora mi ricordo oddio amore guardate che carino questo è un molang marrone non lo so non sapevo esistesse questa variante ma frugando tra i miei sticker lo trovatele troppo carino ed è appunto questo molang marrone con il cupcake con la fragolina sommerso dalle fragoline e direi che ci ho messo un po' di glitter giusto un po' in realtà mi sono malamente caduti dei glitter e avevo messi tre tipi diversi all'ultimo tipo di glitter mi è caduto mezzo barattolo e quindi bene spero che vi piaccia questa creazione sommersa di glitter il riflesso della luce è un po' irritante comunque io adoro eh cioè lo sapete che io adoro le tonnellate di glitter però mi sa che ho un po' esagerato stavolta volevo riempirlo meno strano ma vero e sì a parte il riflesso della luce che non lo fa vedere sempre benissimo a me piace tantissimo molto carina e poi molang così è troppo carino anche la parte qua al centro che è un po' più chiara che dolce e molang abbronzato bene poi no questo non mi ricordo proprio cos'è cosa sai tu ah oh no allora calma è molto carina in questo caso il cuore è anche rimasto al centro ma questo glitter l'avevo messo in un'altra creazione come cavolo c'è finito qua dentro e sì un tocco di rosa in una creazione più che altro dorata appunto lo sfondo è d'oro come vedete e insomma niente di carina però appunto questo glitter rosa bello potente mi urta alquanto però guardate com'è bello al centro sto cercando di evitare la luce questo è venuto bene con lo sticker intendo e con il glitter vabbè è incastrato lì dentro si vede anche qua non ci posso fare molto purtroppo ma che cavolo queste qui con i cuoricini hanno tutte qualche fail in qualche modo poi ce n'è un'altra con il cuoricino piccina piccina oh amore ci ho messo questo sticker che è appunto a forma di cuore più o meno e anche questo si è spostato ma scusate io li mettevo sempre a posto e alla fine molti si sono spostati che gioia però è troppo carino questo cuoricino con un pacchettino da cui esce molang con un fiocchetto cioè ma quanto è bello molang ragazzi è un coniglietto cicciottoso troppo bellino e niente è molto carino lo sfondo l'ho fatto e sembra bianco questa luce in realtà non so se si vede ma ok così si vede è rosa perlato con qualche glitterino vedete sì si vedono i glitterini molto carino e poi c'è sto pulcino nello sticker che non conosco però sembra molto carino guardate quanto è piccola cioè in confronto alle creazioni che faccio di solito è veramente minuscola è carinissimo poi qui cos'è che c'era oh santo c'era ah no ma non me lo ricordo ah ma sì patatino non mi ricordo come si chiama questo dinosaurino ma è carinissimo e gli ho ritagliato un po' lo sticker perché intorno alla parte bianca era enorme veramente forse ho esagerato a ritagliarlo comunque questo ha lo sfondo di questo rosa barra rosso con questi glitter che io adoro sapete che adoro questi glitter esagonali ogni tanto ne butto a tonnellate ed è carino però si è un po' bagnato lo sticker intorno io non mi ricordo mai quali sono gli sticker che si bagna le quali no dannazione però si è bagnato in modo omogeneo sembra fatto apposta ma il punto è quanto è carino guardate la sua faccia cioè è bellissimo io lo adoro questa non posso dimenticarmi cos'è perché vi giuro mi mette una tenerezza e una tristezza addosso questo sticker guardate il povero patatino che piange ha la la piscina di lacrime le goccioline sopra e quindi per stare abbinata gli ho messo uno sfondo azzurro compro anche tanti glitter della serie dai rallegrati con la glitter la luminosità che cosi sono brava a consolare io niente fatto sta che sto sticker quando l'ho visto ho detto no amore piccolo patatino devo usarlo assolutamente perché mi mette troppa tristezza ma nello stesso tempo è troppo carino basta piango povero patatino bene ora passiamo all'altro stampo è stato un bel momento di ricordi con questo ma ora passiamo a questo questa qui è sempre con uno di quei dinosaurini bellissimi oh patato quanto è bello allora lo sfondo è lo sfondo è verde pastello un po' perlato ma soprattutto con tanti tanti glitter guardate che belli ce ne sono piccoli grandi esagonali e a forma di stella e poi c'è questo sticker bellissimo è un amore cioè è troppo carino sto personaggio devo ricordarmi il nome e niente mi piace un sacco con tutti questi glitter poi mi piace davvero tanto mannaggia a sta luce ti prego tutti questi riflessi però è bellissimo 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 mi piace un sacco questa con tutti questi tipi di glitter nello sfondo sta veramente da dio sorvolando che ha qualche bollicino nella pancia poverino non lo so perché aveva avuto una bibita gasata poi questo ha lo sfondo bianco quindi vi ricorda qualcosa che ho detto prima esatto ho messo questi vari sticker con i cuoricini e lo sapete che io quando metto gli sticker tendo a usare il bianco perché per me è un abbinamento troppo bello un sacco elegante tipo però è un po' vuota forse dovevo metterne un po' di più ma poi vogliamo renderci conto di quanto è perlata cioè guardate tantissimo dal vivo rende anche di più ve lo assicuro sì però dobbiamo metterci più sticker pensavo che fossero sufficienti ma sembra un po' vuota così cavolo e vabbè dai poi qui ha no vabbè qui secondo me è un fail però l'idea era troppo carina secondo me vediamo allora questi sono tre sticker c'è questo quest'altro e vabbè questo gelato l'ho messo per riempire perché è troppo carino guardate il gelato con la faccina di molang che amore ma questa dovrebbe essere una vignetta c'è un molang che esce da un regalo e quindi un altro molang che viene spaventato in senso buono gli esce il cuore tipo per questa sorpresa dovrebbe essere sì una specie di vignetta e devo dire che non mi dispiace per niente il gelato non c'entra molto e lo so in effetti però vabbè è bello quindi ci sta e poi lo sfondo guardate anche qui quanto è pieno di glitter bellissimo madonna quanto adoro questi sfondi in cui il colore si vede bene però si vede anche che ci sono tanti tanti glitter vi piace questa idea della vignetta diciamo io la trovo molto carina poi questo colore in teoria era un giallo con un po' di oro in pratica sembra solo giallo è anche un po' pastello questo sì che è oro bene vediamo uh che bello mi piace tantissimo oh sì allora qui ho messo due gelati mamma mia ragazzi sono impazzita per questi gelati non facevano altro che muoversi e venire a galla quindi insomma sarebbe potuto avvenire molto male in realtà alla fine sono rimasti bene fermi e basta non sono non sono posizionati male poi ci ho messo questo sfondo beh il colore alla fine non si vedrà loro ma è veramente bello e poi anche qui tanti glitter che danno un effetto stupendo poi vabbè questi sticker sono fantastici sia per i disegni dei gelati che perché hanno questi riflessi d'oro che mi piacciono tantissimo quindi sì super approvata molto 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 bella mi piace moltissimo ottimo infine passiamo all'ultima eccola qui io in realtà non so perché ho fatto questa creazione a parte che lo sfondo stava meglio più chiaro vabbè è uno sticker con scritto congratulazioni e quindi ci ho messo questi glitter che mi ricordano molto i coriandoli e ci stanno in questa immagine e l'ho fatta perché ho pensato ma magari prima o poi potrei regalarla a qualcuno in un quando servirà se qualcuno avrà bisogno di un regalino di congratulazioni potrei farci qualcosa con questa perché è molto carina però l'oro è diventato veramente scuro cavolo era un po' più chiaro quando lo stavo facendo da nazione però dai è abbastanza carina niente di speciale questa però e vabbè nulla ragazzi mi scuso ancora perché non sono tantissime io come al solito pensavo oh mio dio sono tante sono elaborate questo sicuramente perché ci metto il doppio che con le altre creazioni però non sono venute non sono tante la mia preferita sinceramente è una bella gara tra questi due mi piacciono tantissimo entrambe moltissimo forse questa qui perché lo sfondo con questi tipi di glitter ci sta veramente da dio ma anche questa bellissima poi vabbè ci sono anche altre che mi piacciono altre meno mi raccomando voglio sapere qual è la vostra preferita quindi scrivetemelo qua sotto e noi ci vediamo domani con il prossimo video ciao ciao